L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti, video triplo, riconoscenza Scesni, paradosso Cup Miners, vergogna Chiesa. Se abbiamo detto in invidia parte della riconoscenza verso Scesni, un bel po' di anni alla Juve, quindi prende la buon'uscita, va via, perché sa, prende atto che la società Juventus va su un'altra portiera su Di Gregorio e quant'altro, va bene, si ferma l'arsenal, ok. Paradosso Cup Miners, Cup Miners è il terzo certificato medico, non capisco questo stracismo, questo atteggiamento che è incomprensibile, controverso da parte dell'Atalanta che vorrebbe che il giocatore rimanesse, signori, vale per Chiesa, vale per Chiesa, vale per Rosimena, vale per Nico González, vale per Cup Miners, quando il giocatore non vuole una certa società è probabile che ci rimanga controvoglia, non lo può fare rimanere e quindi è un non senso tutto, quindi io vi dico che comunque in qualsiasi non adesso possono tirare quando vogliono Cup Miners il venerdì, prima del turno, due o tre giorni del 31, sicuramente starà a Torino perché poi dovrà per forza mollare l'Atalanta, perché sicuramente Cup Miners continuerà a mandare certificato, il Manini ha detto espressamente non voglio più sapere niente all'Atalanta, voglio fare le Champions League, vengono a andare a Torino, punto in su di me, ok, non giusto, sbagliato, ormai è un giocatore che ha detto quelle cose, è molto molto chiaro, idem per Nico González, bisogna vedere se io conosco la Santa Ralla Juve, la Talanta, ma come puoi vedere questa cosa con la cosa che appare, signori, chiudo il video con vergogna chiesa, perché la Juve aspetta a chiesa due anni, problemi al crociato, non gioca, non strappa, non salta l'uomo, è lento, è impacciato, tutto quello che volete, i colleghi l'abbiamo detto, ma lui non ha dimostrato niente, ribadisco la Juve e ti aspetto due anni, ribadisco la Juve e ti aspetto per gran, ti chiede un rinnovo di contratto a ribasso, 5 milioni di euro giù di lì, ne vuoi 6, giri tutto il mondo, tutto il globo, nessuno ti dà quei soldi, probabilmente te li poteva dare la Roma, non lo so, mi manco con il dubbio, ma si vociferava insistentemente su questa cosa qua, non vuole andare alla Roma perché vuoi fare la Champions League, non solo vuoi il denaro che dici tu, ingaggiano altri, vuoi fare la Champions League, che succede? che in Europa, anche in Inghilterra, nessuna squadra si interessa più di tanto quando sentono dire sui 6 milioni di euro di ingaggio annuali, le ultimissime, la Juve per non fare minusvalenza chiede 14-15 milioni di euro a Barcellona, una ventina, il Barcellona parla di 10, si dovrebbe raccordare a breve a 15 e quanto sempre, tra l'altro offerte non ce ne sono, quindi ripeto, 15 per evitare la minusvalenza e per evitare l'anno grosso vada a parametro general intero giudizio, ma la vergogna, signori miei, si tocca con mano quando il Signore Chiesa, con Fali Ramadani e anche con il padre di Chiesa si permettono di fare valutazioni anche per certi versi controversi di confronto della società Juventus e poi Chiesa è costretto, cambia al collo, fa le sue valutazioni, rischia di accettare un ingaggio annuale sui 4 milioni e mezzo all'anno, signori, Chiesa fino a ieri pomeriggio parlava di 6 milioni, 6 milioni, aggiungo una piccola postiglia, signori, Rabbiu non ha ancora trovato una squadra perché ne vuole 8, questo per dire, signori, è difficile trovare adesso squadre che diano un tot di ingaggio annuale a questi giudizi, anche se sono parametri zero, o giudini o in Chiesa che ha un costo minimo attualmente, che è scala di 2025, signori, ribadisco, chiudo in bellezza, io credo di l'atteggiamento di tutto, del tuo ragio, del padre, non ne ne parliamo, ma anche di Chiesa di conoscenza zero, allo direi, espressamente, caro Chiesa, ti devi vergognare di conoscenza zero, io non ti ho aspettato a portare, vuoi offrire 5 milioni di euro all'anno, hai detto no, ma è a Barcellona, non ce ne frega niente, basta recitare se 12 milioni di euro non facciamo crossvalenza, non facciamo, scusami, crossvalenza, ma addirittura a 4 e mezzo all'anno, io credo che i signori di mia Chiesa non puoi dire nulla, in questo momento si accetta quelle condizioni, non puoi dire nulla, ogni qualvolta parla di lui si deve sciacquare la buca, io fossi lui nel fatturato, e anche nel padre che ha detto vogliamo parlare con la dirigenza, vi dovete vergognare, l'artista esistenzialista conosciato.